Guarda quanti segni, un atlante è il corpo mio, qui è passato il mondo, riconosco il marchio suo. Spavalto ed insolente, delicato non direi, credi a lui e non a me come buona gente. Ma che ti ha detto niente, che ti ha detto niente? Ma non ci sai oggi che giorno è? È lunedì? No, lì, te l'annumero. Che me scordo, panomastico? Ti scordi niente? Sembra io un giorno normale. Ma doveva stare? È giorno strano, oggi c'è pure il palindamo romanesco, è il botto d'ottobre. Ah, te lo dico io che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Oggi è il giorno d'Apoturia. Come il giorno d'Apoturia? Cos'è che è successo ieri sera? Che è successo ieri sera? Che sera a Roma? Eh sì, a Lazio, a Roma, ci ha fatto sei metri, a una. Allora la staglia, la torca segnassi la. Ma state sento quello che per la mia non so mai che ho chiuso occhio. Si è chiuso l'occhio. Eh. Ma siete davvero i bandati, i bardani, uno vicinevo, se siete in piedi da zampata la schiena, non lo so. Sono mai troppe, guarda. Eh certo, eh ma a un certo punto. Eh, a un certo punto... Ah! Ah! Ma che è il bambino? Mi hai fatto mi accorto! Eh, si è cacciato lo stile, ma che si fa soppare questa volta? Invece via più! Esagerato! Tutto questo mentre stavo dormito! Eh, non ando con l'occhio di un simbellato! Sì, sì, so capito. Ma non so, fissata, non so un'incidenza, perché se no sarebbe un'incidenza pure a casa del Corano che dice è scritto che un figlio da rabbia sveglierà una terribile atla e che la collera dell'atla si sentirà. È un'incidenza? Ma chi è assicurato? Un amico mio, lascio perdere! Oh, l'ha preso un bieto! L'ha preso un bieto! E' ieri sera, no? Ah, ieri sera! La collera della grande A me la sei svegliata! E ci ha fatto sei mene, figli da rabbia! Dopo ieri sera, so, gialli leppini e rocci incazzati! No, grazie! No, ieri sera! 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 Come ieri! Come il ladro ieri! Come i tre giorni fatti! Così? Non schifo, grazie! Bello! Ma non c'è l'ottimismo, non serve altro! Un po' scarico! Certo! Questa è la mia? No, sì! Questa è acqua! Vabbè, comunque un euro, eh! Eh, quello ti è bello su un'altra! No, no! Ci vorrebbe che facessimo tutti come vogliati! No! Questo però che... No, se tutto ci sono per il giro! Ma diventa sempre una montagna! Si, la di Ammari! Si, guarda! Ma, non lo guarda! Guarda, guarda! Si, te, pare! Ma che ne se faccio? Guarda, guarda! Guarda la moneta! Si, la moneta! Si, la banca non d'acchi! che c'è la sopra? e che c'è la novo? bell'ommino, gabbardo, tucaroni, presidio, giacca e prevatta guardi vedi via, è un po' contello che è bello ma vedi quanta moneta la nevo? eh, la tenevo, che tenevo? io non so che vuole questa cosa, però la tenevo l'ommino nudo così con altro l'ommino nudo così ma io non voglio sapere che fanno su voi che scandalizzerai curio, però quando te la metti in tasca e cammini? mi senti la rosca che si muore? io non ho capito quanta io sono qua senti quello ma quando tu lo trovi? ma io l'ho detto serio, lo sai che sta a fare l'università no? sono 15 anni che fa l'università e te la metti a lui l'ambientamme no? omo qualunque, è lo primo che capita c'è il giampi, chi ti dice a cui lavoro? ma lo sai che mi piacciono queste cose no? e certo, ho lavorato fatica a fare i coglioni ma sempre tu che modo da esprimisi? questo c'è meglio che è nostro? questo me pare, ma quindi me pare sono il più grande campione della Lazio allora per dirle a tutti, a me si messo il nome a me si messo con un nome ma io ne so ma io ne so Sidi, ma che è il nome? no ah Sidi, ma che è il nome? che ne so mi puoi chiamare come tanti nomi normali? Paolo oh ma che si fa? ma Bruno non ti piace? ah ma trappure, l'ha ancora d'angario a Francesco ma che si fa tu? ma sai che nomi si dito? che nomi si dito? che nomi si dito? che nomi si dito? dai quei dei beccamarti che giocano su quella squadra tra il mondo e la Londra e il Ciampino ma a Roma? eh bravo, a Roma e se volevo te lo dicevo io no? e ne ando? e ne ando? e ne ando? io darei poche potesse anche se possa così e tutto o no no ma come sono io? e ne ando? noi altri basta con se tu dire umano eh il denaro ci fa mangiare ti capito? si ma io sono da tonti un macellano eh? come mettere tonta a me? come per me? mezzo tonta si però io dicevo tonti un macellano ti capito? macellano? ma come parlate in questa stambergiana? senti stambergiana questa si chiama pensione pensione? pensione stamberg? no 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 solo pensione però una stella e mezza però solo pensione te stai avanti se io voglio usare tonti e ci dico dammi 30 tarchicce e ci do fogliette di casa lo sanno me ne mette 30 tarchicce? tu assieme a scopo duca vallo e fogliette di un macellano pure che non ero giù a pensare a me stesso io ma cosa hai capito? l'hai fatto un proprietario di stamberg sono andata l'abbassionata come ciò che significa lavoro? non so io che lavoro ti riferisco allora questa parola è a sera lupo copulare sarà se non me ne accorgo perchè se me ne accorgo la mattina ho lupo non te più non me ne vincere non te più se non mi accorgo che cosa face l'essere Grazie a tutti Grazie a tutti